Buongiorno a tutti, oggi voglio presentarvi il mio ultimo libro che riguarda i delitti contro la pubblica amministrazione. Il libro è questo qua. Ci sono tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, tutti quanti, però hanno una particolarità. Prima di tutto sono commentati articolo per articolo con 214 massimi della Corte di Cassazione. Poi il libro è aggiornato al decreto legge 4 luglio 2024 numero 92 in vicore dal 5 luglio 2024 e convertito con legge 8 agosto 2024 numero 112 e la legge 9 agosto 2024 numero 114 sarebbe il famoso decreto nordio che ha abolito, ha abrogato l'abuso d'ufficio e ha riformulato il traffico di influenze illecite. Praticamente è diventato un altro reato rispetto al prima. e per quanto riguarda il decreto legge che poi è stato convertito, come vi ho detto, ha praticamente introdotto il peculato per distrazione. Quindi due importanti novità libri aggiornatissimo. Ho aspettato, prima di pubblicarlo, che il decreto cosiddetto nordio fosse promulgato dal Presidente della Repubblica. Perché fin quando le Camere lo approvano, ma il Presidente della Repubblica non lo promulga, beh, non sappiamo esattamente, magari, potrebbero rimandarli indietro. E invece no, è stato promulgato così come è stato approvato dalle Camere. Il libro è di 118 pagine. Ho scelto un carattere abbastanza grande, non piccolo, in modo che chi lo legga non debba sforzarsi, perlomeno per leggerlo. E come vi ho detto, qui dentro ci sono 214 massimo e la Corte di Cassazione. Questo libro qua è diverso, credo, da tutti gli altri che sono state pubblicate finora relativamente allo stesso argomento. Perché sei una tecnica diversa rispetto al passato. Noi praticamente abbiamo due tipi di testi dove voler apprendere cose come questo. C'è il testo classico, il libro, che spiega, dice quello che dice la dottrina, poi fa accenni a quello che dice la giurisprudenza, magari li mette in nota solamente però con riferimento testuale di una massima alla Corte di Cassazione, che spesso non sono nemmeno delle più recenti. Insomma, questi libri già sono impegnativi a leggerli in realtà, anche perché poi l'autore ci mette una serie di considerazioni, dice quello, dice quell'altro. Io questi libri qua li trovo carenti soprattutto per quanto riguarda la giurisprudenza. Diciamoci la verità. Quello che conta veramente è quello che dice la giurisprudenza, soprattutto quello della Corte di Cassazione. Quello che dice la dottrina, forse una volta c'erano tre, quattro dottori importanti, professori che facevano dottrina che veniva seguita. Adesso ce ne stanno talmente tanti che è difficile dire quale sia una linea. E poi nei tribunali, in generale, davanti ai giudici, contano quello che dice la giurisprudenza, non tanto quello che dice la dottrina. In questi libri ci sono riferimenti a sentenze della Corte di Cassazione, spesso anche molto vecchie, riferimenti alla dottrina. Insomma, sono abbastanza complicati da leggere e soprattutto da trarne un'idea chiara di qual è il problema che si affronta reato per reato. Poi ci sono i codici commentati. I codici commentati cos'hanno? C'hanno l'articolo, un commento e poi tantissime sentenze massime della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tutti e due questi sistemi hanno delle pecche. Il primo ve l'ho detto, il codice commentato sì, il fatto di mettere tante tante massime della Cassazione e dei giudici uno può andarsene a spulciare per trovare quello che interessa. Secondo me nemmeno questo è il sistema migliore. Allora cosa ho fatto? Prima di tutto nel libro ci sono tutti gli articoli uno per uno. Ecco, spero che si legga, che ci sono i soliti riflessi. Cioè praticamente ci sono i testi di tutti gli articoli. Perché ci sono i testi di tutti gli articoli e poi sono commentati uno per uno? Perché quando io pure vedo su un libro, su un test tradizionale che mi parla di un certo reato, di un certo articolo del codice penale, però poi che cosa devo fare? Devo andarmelo a leggere, devo andarmelo a vedere, perché tutto parte dal testo dell'articolo. E questo fatto, prendi il codice, apri o guardalo sullo smartphone dove vuoi, valla a leggere, questa cosa qua è una perdita di tempo e si perde anche di concentrazione in realtà. Quindi, perché non mettere tutti i testi degli articoli anche in questi libri tradizionali e invece i testi degli articoli li ho messi tutti quanti uno per uno, in modo che uno non deve andarsene a vedere chissà dove ogni volta perdendo le concentrazioni. Seconda cosa riguarda le massime della corte di Cassazione? Vi ho detto che ce ne sono 214. Benissimo, ma come sono messe? Tipo codici commentati o tipo richiami come fanno i libri tradizionali? Assolutamente no. Le massime della corte di Cassazione sono inserite per intero nel testo. Quindi non è che è qualcosa che è strano e al testo che poi bisogna andarsela a vedere alla fine, oppure c'è solo il riferimento testuale e uno la massima se ne deve andare a cercare. No, le massime diventano parte integrante del testo stesso. Cioè, quando parlo di una certa cosa, poi dico, la Cassazione su questo punto, perché ci sono delle problematiche evidentemente, ha questa opinione, ha questo orientamento. E ci metto due, tre massime dell'orientamento relativamente a quel problema che si pone. E poi vado avanti col discorso. Anzi, per facilitare il compito al lettore, il punto fondamentale della massima è spesso sottolineato, in modo che si risponde alla domanda o al problema che si era posto nel testo. Scusate, bevo un attimo. Quindi le massime sono riportate per intero, sottolineate nelle parti più essenziali e diventano parte integrante del testo e non qualcosa che sta da una parte dove uno di cui andasse a cercare qual è quella che gli interessa. Altra cosa, la Corte di Cassazione e i giudici in generale, ma che forse la Corte di Cassazione pure su uno stesso punto ha sempre lo stesso orientamento. Beh, se fosse vero non servirebbero le sezioni unite della Corte di Cassazione, visto che tutte le sezioni della Corte di Cassazione sono sempre tutte felicemente d'accordo. Invece vi posso dire che non solo le sezioni su uno stesso fatto, su uno stesso punto di diritto della Corte di Cassazione, sezioni diverse possono essere in disaccordo, ma spesso, ma questo ovviamente qui non c'è, all'interno degli stessi collegi ci sono dei forti dissensi su come interpretare una certa norma di legge. Allora, mentre nei libri tradizionali vedo certe cose tipo secondo la Corte di Cassazione così e mi riporta un orientamento, poi vai a vedere ce ne stanno altri dieci che dicono una cosa diversa. Allora, quando ci sono questi contrasti fra sezioni della Corte di Cassazione che spesso non sono nemmeno sanate all'intervento delle sezioni unite, perché magari arrivano le sezioni unite, dicono una certa cosa, affermano un certo orientamento, poi vedi che delle massime successive spesso non lo seguono. Allora, quando ci sono queste differenti interpretazioni da parte di diverse sezioni della Corte di Cassazione, io qua le riporto. Dico, questo è quello che si intende per questo certo comportamento, questa certa cosa, eccetera, eccetera. Però c'è un altro orientamento che dice quest'altra cosa. Non si può ignorare un fatto del genere. Non si può ignorare che diverse sezioni della Corte di Cassazione hanno orientamenti diversi, succede. A volte invece, molto più spesso, capita che le sezioni della Corte di Cassazione su un certo punto hanno un orientamento simile che dura nel tempo. Allora si può dire che quella è una giurisprudenza consolidata. E quindi quell'orientamento è sicuramente accettato nell'ambito della magistratura. Altra cosa, quali sono le massime che ho riportato? Le massime risalenti a 50, a 60, a 30, a 40 anni fa. No? Ho riportato, ho incominciato a riportare, prima di tutto, le massime più recenti. Per quanto riguarda la pubblicazione di questo libro, che è 2024, proprio quelle del 2024. Si parte da quelle. Poi si va a vedere se eventualmente ci sono state in precedenza delle massime discordanti, orientamenti discordanti, magari interventi delle stesse sezioni unite. Non è che mi sono rifatto a massime risalenti a chissà quando, e poi perché una magari confermo una certa mia teoria, parlo dei libri tradizionali, metto quella e vado a tacere tutte le altre. Chiaro? Quindi penso che un lavoro del genere, che commenta articolo per articolo tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, ovviamente, del codice penale, che ci mette le massime per intero, all'interno del testo, non come corpo estraneo, ma come facente parte dello stesso discorso logico che si sta facendo relativamente a un certo articolo, credo che non sia stato mai fatto. E quindi è un lavoro innovativo che faccio, come ho fatto gli altri nel campo del diritto, per facilitare la comprensione di una materia che assolutamente non è semplice e per mettere a fuoco tutti i problemi che ci sono interpretativi relativamente a un certo articolo del codice penale per quanto ci riguarda i delitti contro la pubblica amministrazione. Il libro, come al solito, è in vendita su Amazon. Sotto troverete il link. Poi forse è capace pure che un giorno fare un videocorso relativamente a questi delitti. Penso di avervi detto tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.